Siamo qui con Davide Nitride, capitale del Real Madrid, è arrivata una vittoria ma è arrivato soprattutto il passaggio del turno. Sì, siamo molto contenti, ci tenevamo a fare bella figura in questo torneo, per l'altro colgo l'occasione per ringraziare tutti gli organizzatori perché ci siamo trovati veramente bene, questa prima esperienza della squadra, quindi siamo contenti, ci tenevamo a chiudere in bellezza il torneo, poi è arrivata anche la qualificazione, quindi siamo veramente contenti. Complimenti per la qualificazione, adesso testa al passaggio del turno. Sì, sì, assolutamente, siamo già concentrati sulla semifinale di martedì, ripartiamo da questo ottimo risultato, quindi testa a martedì e speriamo di fare bene. Complimenti ancora e in bocca al lupo. Grazie, io e lupo.